Preghiera all'Arcangelo Raffaele. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Raffaele Arcangelo. Ai tempi della prigionia in Babilonia, Dio ti ha mandato da una famiglia ebrea che l'aveva invocato in un momento di grande bisogno. Dio esaudì la loro preghiera e ti incaricò di accompagnare il giovane Teobia nella lontana Rajes, nella Media, dove con il tuo aiuto gli hai trovato una buona moglie. Con questo esempio Dio ha voluto dimostrare che gli angeli assistono gli uomini in ogni momento se questi ultimi si affidano completamente alla loro guida. Arcangelo Raffaele, conosciamo questa storia della Bibbia, Tobia 1,14, che ha commosso parecchi uomini. Ti prendesti cura della famiglia del giovane Tobia, con molta dolcezza. Facesti incontrare i due giovani e liberasti la giovane donna da un demonio malvagio. Più tardi curaste anche il vecchio padre, San Raffaele Arcangelo. Guarda come la nostra gioventù getta le sue perle ai porci. Matteo 7,6 E come il mondo neopagano si congede agli idoli del sesso, del denaro e della droga e non riesce più a liberarsi dalla schiavitù, sino a non averne più alcuna via d'uscita. Vieni in aiuto di questi giovani, con i tuoi angeli, come aiutasti il giovane Tobia e Sara. Consola anche i genitori, ormai insicuri. Mostrati come allora, quando ti rivelasti e facesti capire di essere mandato da Dio, uno dei sette angeli sacri che portano la preghiera dei santi lassù e si presentano alla maestà di Dio. San Raffaele Arcangelo, crediamo nella tua missione. Porta anche la nostra preghiera davanti al trono dell'Altissimo e parla per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Grazie. 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 Grazie.